Uno dei dati principali emersi nella relazione del Presidente della Corte d'Appello in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale di Messina è che nel 2019 si è registrato nell'area metropolitana pluritana un incremento degli infortuni sul lavoro di ben 800% rispetto all'anno precedente. I riscontri statistici sono inconfutabili e quella degli incidenti sul lavoro sembra assumere i tratti di una vera e propria emergenza per il territorio messinese che è stato colpito lo scorso novembre dalla tragedia provocata dall'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio nella città di Barcellona Pozzigotto in cui sono morte cinque persone. Dalle ultime rilevazioni rese note dall'Inail emerge che i casi di incidenti mortali in Sicilia sono passati dai 49 del periodo gennaio-settembre 2018 ai 56 registrati nel medesimo lasso di tempo del 2019 ma anche nel resto del paese il trend sembra essere il medesimo. Infatti nell'ultimo triennio si sono registrati 3.180 decessi sui luoghi di lavoro in Italia con una tendenza all'aumento che ha registrato 1.018 vittime nel 2016, 1.029 nel 2017 e 1.133 nel 2018. È un dato che deve far riflettere sostiene Franco De Domenico deputato regionale del Partito Democratico perché spesso ci occupiamo di lavoro, del lavoro che si perde, del lavoro che non c'è ma si finisce col trascurare il tema fondamentale della sicurezza sui luoghi di lavoro e invece sui luoghi di lavoro si continua a morire. Queste vittime impongono una maggiore vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ma soprattutto sul lavoro nero che spesso si accompagna, continua De Domenico, all'assenza dei requisiti minimi di sicurezza rappresentando una delle principali cause della tendenza all'aumento degli incidenti e delle morti sul lavoro che la continuativa crisi economica, soprattutto quella del settore edilizio, sembra avere aggravato.